Ragazzi, siamo sempre più vicini all'approvazione definitiva degli Ethereum Spot ETF. Inoltre, VanEck ha depositato ufficialmente presso la SEC il form 8-A che, ricordo, durante l'approvazione dei Bitcoin Spot ETF, dopo esattamente 7 giorni da questo deposito di questo specifico form, è stato approvato ufficialmente gli Spot Bitcoin ETF. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon giovedì mattino a tutti. E in questo video, come già vi ho anticipato all'interno di quest'intro, voglio andare ad aggiornarvi con quello che sta succedendo, soprattutto per quanto riguarda la situazione Ethereum ETF, flussi dal punto di vista istituzionali, perché comunque sia anche la Germania ha spostato nuovamente nuovi Bitcoin per andare molto probabilmente a damparli, dato che li ha spostati presso Kraken. Ragazzi, abbiamo un sacco di cose super interessanti che voglio mostrarvi, però prima di andare a vedere tutto nel dettaglio, vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Perfetto, basta perdersi in chiacchiere e passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi, passiamo immediatamente con i dati di carattere fondamentale che usciranno durante la giornata di oggi. Vediamo come abbiamo il GDP, ovvero il PIL americano, che è in attesa discendente rispetto al dato precedente, che era di un 3,4%, invece gli analisti si aspettano un 1,3%. È un dato molto importante, soprattutto è il dato più importante che ci fa capire come sta andando l'economia americana. Quindi ragazzi, attenzione, perché se esce un dato troppo discordante, soprattutto verso il ribasso potremmo vedere uno shock su tutti gli asset a risk on. Quindi molto, molto, molto attenzione. Passiamo però con la situazione del mercato crypto, perché anche VanEck ha inviato il form 8-A per l'ETF su Ethereum. Ricordo che nel caso degli scorsi Ethereum, Bitcoin e ETF, fu inviato sette giorni prima dagli enti emittenti del lancio del prodotto in borsa. Quindi, ragazzi, siamo ancora in tempo di una possibile previsione fatta appunto da Eric Balciunas, che predette qualche settimana fa, qualche giorno fa appunto, il fatto che entro il 2 luglio Gary Gensler possa accettare in lotto tutti gli Ethereum spot ETF. Tornando e stando sempre sulla situazione di VanEck, VanEck ha annunciato che rinuncerà alle fees per quanto riguarda gli Ethereum e ETF fino al 2025, oppure fino al raggiungimento di 1,5 miliardi di dollari in asset, ovviamente per quanto riguarda lo strumento specifico lanciato da VanEck. Molto, molto interessante. Sono ovviamente iniziative per attrarre capitali, soprattutto per testare questi nuovi strumenti e soprattutto incentivare le persone, ovviamente, ad andare a investire in questi strumenti. Attenzione, 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 perché c'è una cosa molto interessante. Infatti, durante una discussione fatta da Bloomberg Investment a Gary Gensler, ovvero il capoccia della SEC, hanno chiesto appunto come procedevano le trattative per quanto riguarda l'approvazione definitiva dell'Ethereum e ETF. Infatti, Gary Gensler ha dichiarato al pubblico durante questa intervista che sta procedendo senza intoppi. Ragazzi, siamo sempre più vicini, abbiamo delle conferme definitive per quanto riguarda il nostro grandissimo Gary Gensler che, come andremo a vedere all'interno di questo video, comunque sia, potrebbe essere uno delle maggiori cause per il quale, secondo diversi analisti e secondo anche, per esempio, il founder di Ripple, potrebbe essere una delle principali cause che Biden fallisca durante queste campagne elettorali, visto il terrorismo che sta facendo letteralmente il nostro caro amico Gary Gensler sul mercato delle criptovalute. Quindi, ragazzi, tutti i riflettori, in un modo o nell'altro, sono puntati sulla SEC durante queste campagne presidenziali. Infatti, come già vi anticipavo questa news, che in realtà già ve l'ho detta, il CEO di Ripple ha dichiarato che, appunto, Gary Gensler possa essere una delle cause per il quale Biden perderà questa elezione, ok? Voglio tornare sulla situazione Ethereum e ETF. Infatti, secondo il CIO di Bitwise, ha dichiarato che questi ultimi strumenti potrebbero attrarre circa 15 miliardi di dollari di net inflow nei primi 18 mesi. Ragazzi, ovviamente ne abbiamo sentite di tutte per quanto riguarda questi grossi colossi del mondo degli investimenti che vociferano, appunto, prezzi stellari per Ethereum, prezzi stellari per Bitcoin, eccetera, eccetera, ok? È anche vero che qui abbiamo un conflitto di interesse, dato che Bitwise è un ente emittente di un Bitcoin spot ETF, è in corsa per quanto riguarda l'Ethereum e ETF. Di conseguenza, sta fomentando tutto il pubblico, potenzialmente interessato, preparandoli dunque al lancio imminente, appunto, di questi ultimi strumenti. Però, effettivamente, se noi andiamo ad analizzare la situazione dei Bitcoin ETF a Asset Under Management, ovvero questo grafico che ci rappresenta gli asset che sono definitivamente investiti in tutti gli strumenti ETF di Bitcoin, vediamo come al lancio, dopo neanche un mese, effettivamente, anzi un mese, qualche giorno, Bitcoin ha raccolto circa 31 miliardi di dollari. Ora, Bitwise ha dichiarato che potremmo vedere circa 15 miliardi di dollari nei primi 18 mesi. Effettivamente, questa non è una previsione un po' campata per ario. Potrebbe essere molto, molto veritiera come cosa. Ora, ovviamente, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista degli investitori, Bitcoin, a mio parere, ma secondo il parere anche di diversi sondaggi, evidentemente, Bitcoin, appunto, è l'asset preferito per quanto riguarda l'investitore istituzionale e non. Però, anche Ethereum potrebbe riscuotere un discreto successo e, secondo me, questo target potrebbe essere totalmente fattibile, quantomeno fattibile, appunto. Attenzione, perché il governo tedesco ha inviato altri 15 milioni di dollari in Bitcoin, a Bitstamp e a Kraken. Questo è successo durante la serata di ieri. Infatti, adesso, vediamo come, la scorsa settimana abbiamo andato un equivalente di circa 150 milioni da un, appunto, dal portafoglio ufficiale del governo tedesco verso degli exchange centralizzati, molto probabilmente, anzi, con una gigantesca probabilità per andare a dampare questi ultimi, ok? Quindi, ragazzi, attenzione, sottolineiamo questa situazione, ok? Voglio parlare rapidamente per quanto riguarda le regolamentazioni che stanno per impattare ufficialmente, in modo ufficiale, a partire dal 30 giugno, praticamente a giorni, per quanto riguarda il mercato europeo. Infatti, stiamo parlando delle regolamentazioni mica. C'è un diverso studio, che poi, in realtà, non serviva a questo studio per andare a capire certe situazioni, che dimostra il fatto che probabilmente potremmo vedere un rallentamento molto importante per quanto riguarda la crescita e l'utilizzo delle criptovalute dovute anche al fatto del, non soltanto del KYC e AML, che comunque sia la maggior parte dei principali exchange, che già, almeno a livello teorico, dovevano, diciamo, adottare, anche senza mica. Però, tendenzialmente, il fatto che la maggior parte delle stable coin che sono pegate al dollaro, che, ricordo che, per quanto riguarda tutti gli strumenti derivati, praticamente tutti gli strumenti derivati, utilizzavano queste ultime stable coin, soprattutto USDT. Ricordo che USDT non sarà più possibile utilizzarlo in Europa per quanto riguarda gli strumenti derivati. E questo implica il fatto che gli utenti finali, praticamente noi europei, dobbiamo andare ad utilizzare come collaterale diverse altre stable coin, magari stable coin meno capitalizzate e, di conseguenza, più rischiose. Andiamo a utilizzare diversi strumenti che magari non hanno avuto un buon rodaggio e questo, purtroppo, implica un grosso danno, secondo me, nel breve medio termine per quanto riguarda l'industria europea del settore delle criptovalute. Ragazzi, vi ricordo che c'è la possibilità fino al 30 giugno, praticamente fino all'entrata in vigore del MICA, di ricevere un bonus che può andare fino a 200 USDT per i nuovi iscritti. Ovviamente vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Sto parlando di BitGet. Oltre al 20% di sconto sulle trading fees avete la possibilità di ricevere questi 200 USDT che potete utilizzare sul mercato dei derivati. Perfetto, ragazzi, passiamo con il vedere come si stanno comportando i mercati questa mattina. Vediamo come nell'ultime 24 ore abbiamo un mercato in ricorrezione soprattutto sulle altcoin. Infatti, all'interno di questo video andremo a contestualizzare anche la Total Trade che prende in considerazione ovviamente la crypto market cap senza Bitcoin e senza Ethereum. Però vediamo come a parte quasi tutti in russo abbiamo per esempio Caspa che guadagna un 12,5%, Maker un 8,7%, Lidl un 3,9%. Diciamo che si contano sul diritto di una mano quelle in positivo. Infatti, purtroppo, Bitcoin ed Ethereum sono negativi negli ultimi 24 ore soprattutto Bitcoin. Infatti, vediamo come negli ultimi 24 ore perde uno scarso 1% assestando il prezzo a 61.121 dollari. Sto parlando ovviamente di Bitcoin. Tuttavia, Ethereum rimane stabile. si può dire appunto stabile nell'ultime 24 ore comunque negativo sul settimanale con un prezzo a 3.383. Andiamo a vedere però la situazione flussi molto rapidamente. Infatti, vediamo come nella giornata di ieri di scambi per quanto riguarda le borse americane dei Bitcoin spot ETF abbiamo avuto un inflow positivo. Però, stranamente, per il quarto giorno successivo abbiamo avuto l'Ishare Bitcoin Trust che ricordo che è sempre fatto da padrone per quanto riguarda la corsa agli ETF anzi, a livello statistico infatti, se prendiamo un totale dal momento del lancio è stato quello che ne ha assorbiti di più di tutti. Infatti, siamo a un 306.000 Bitcoin a fronte del secondo posto che è quello di Fidelity con un 170 praticamente la metà. Comunque sia, molto molto strano che abbiamo un inflow praticamente pari a zero. allora ragazzi voglio andare molto rapidamente a fare un overview infatti andare a vedere un po' come si sta comportando il prezzo perché purtroppo se vogliamo vedere una situazione del genere cioè vuol dire un V-shaped recovery ovvero che questa situazione qui che stiamo vedendo negli ultimi giorni possa essere recuperata nel brevissimo termine purtroppo ragazzi le probabilità visto anche il comportamento che abbiamo assistito con la chiusura della giornata di ieri che purtroppo se volevamo un V-shaped recovery tecnicamente io vi parlo a livello tecnico poi ovviamente non è che succedono sempre nello stesso modo i mercati non si comportano mai in modo uguale ma solitamente fanno rima ok? il fatto è che tecnicamente dobbiamo vedere una super accelerazione almeno al di sopra dei 64.000 dollari ok? altrimenti qui aumenta la probabilità che questa possa essere una zona di lateralità riposo e purtroppo se fa una schematica del genere continuazione verso ribasso ok? ovviamente tutti non vogliamo questa situazione però vedremo un po' cosa succede ok? qui abbiamo avuto una schematica leggermente diversa infatti abbiamo avuto sì una zona di accumulazione ma senza la conferma di un massimo inferiore rispetto all'appunto al massimo precedente questo sul 4 ore ok? quindi detto ciò tra oggi e domani vorrei vedere una chiusura al di sopra almeno dei 64.000 dollari per cercare di emulare quest'andamento ok? la situazione su Ethereum rimane pressoché stabile verso ribasso un po' come Bitcoin infatti anche qui stiamo stazionando saremo a vedere appunto se andremo a colmare definitivamente 3.100 dollari circa ovviamente oppure no la situazione sulla crypto market cap escluso Bitcoin e Ethereum purtroppo non è che mi piaccia molto infatti come avevo detto abbiamo sfondato verso ribasso questa zona importantissima che ci portavamo dietro ormai dal 13 aprile del 2024 sto parlando di chiusure daily ed effettivamente se ci fate caso anche qui abbiamo una zona letteralmente di stazionalità zona di stazionalità che purtroppo si sta verificando al di sotto di questi minimi il che la possibilità che questo sia magari un ritracciamento per poi la continuazione verso ribasso c'è e come quindi ragazzi fate moltissima attenzione perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video mi raccomando se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di supportare lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao